Piglia la Puglia! Eccoci qua, seconda parte di Piglia la Puglia. Noi vi ricordiamo l'appuntamento del 18 giugno con Masserie Sotto le Stelle, un modo per poter vivere live questa bellissima atmosfera delle masserie didattiche a ridosso dell'inizio dell'estate, una notte dedicata alla conoscenza di questi luoghi incontaminati dove poter passare una piacevolissima serata, assaggiare tante cose buone e perché no, imparare anche a farle le cose buone perché ci saranno dei laboratori didattici dedicati ai nostri prodotti tipici. Allora, prossimo gioco, il gioco di Zuppa o Pan Bagnato. In questo gioco io farò tre affermazioni, voi mi dovrete dire se sono veri o falsi, ovvero se sono Zuppa o Pan Bagnato, va bene? Allora, prima domanda. Il finocchio marino un tempo veniva usato come pianta medica per prevenire e curare lo scorbuto, malattia generata da carenza di vitamina C e che spesso colpiva i marinai. Dunque, questa affermazione è Zuppa o Pan Bagnato? A-O-U-U-U. Il finocchio marino è una pianta medica. È Zuppa o Pan Bagnato? Zuppa. Pan Bagnato. E perché? Ha fatto con gli occhi così, che aveva detto bene lui. Zuppa, 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 lei guardi me, non vada a cassaccio, guardi me. Zuppa non solo il finocchio marino è fonte di vitamina C, ma presenta anche altre proprietà benefiche, come quelle digestive, aperitive, diuretiche ed allevia persino i dolori da calcoli renali. Mi faccia un calcolo renale, 6x6, vedi, è bravissimo, me lo faccia lei, 8x8, 64, sono dei geni della matematica questi ragazzi. Seconda affermazione, a giugno il comune di Zollino si prepara per la raccolta delle cicerchie, legume tipico della zona. Zuppa o pambagnato? Pambagnato. Pambagnato. Pambagnato, pambagnato. Ma che cicerchie, cicerchie. A Zollino crescono rigogliose, numerose, invece le piantagioni di fava denominata localmente cuccia. Ma di cicerchie proprio neanche a parlarne. Terza affermazione. Per friggere il miglior olio è quello di semi. Pambagnato. 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 Anche dall'oltretomba, pambagnato. Arriva questo monito. Ma che? Ma proprio invece a maggior ragione che la frittura, la frittura non è che si possa dire che faccia proprio bene alla nostra salute. Va proprio preparata con l'olio extravergine di oliva, il quale assottiglia di gran lunga gli svantaggi di questo tipo di cottura. Quindi diciamo la verità, l'olio extravergine di oliva, specialmente quello pugliese, è imbattibile anche sulle fritture. Fate un applauso ai nostri ulivi secolari che ci danno questo nettere sopraffino. Allora, a questo punto voi da Sternatia recate in dono a tutti quanti noi, specialmente ai telespettatori che stanno seguendo questa puntata, un'esibizione, un canto grico. A voi la gioia di ascoltare questa antica lingua molto radicata in questo territorio che racconta di una civiltà che in altri tempi insomma ha saputo e come tenere nel migliore dei modi queste terre, la civiltà grico-salentina per l'appunto. Sentiamo, ascoltiamo questo canto e godiamo di questa musica che arriva dal passato. Prego. 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 Complimenti, complimenti al coro di Sternatia, sono stati bravissimi, davvero straordinari. Lei sportivamente, faccio un applauso ai suoi compagni, anche se da salve, faccio un applauso ai suoi compagni di Sternatia, coraggio. Benissimo, benissimo e questo facciamolo tutti noi, benissimo, complimenti. Pronti per il terzo gioco in punta di lingua. Ah, che bell'applauso, grazie. Siete assai gentili ma soprattutto spontanei. Allora, eccolo qua il terzo gioco in punta di lingua, io darò cinque parole chiave. Voi mi dovrete dire qual è la parola nascosta che avrete scoperto appunto ispezionando e cercando di fare vostre queste cinque tracce. Va bene, prima traccia. Ferro. Ferro. Lei conosce qualche ortaggio in ferro? No, lei neanche. Però alcuni ortaggi possono contenere ferro, che è cosa diversa, no? Vabbè, seconda informazione. Gambo. Gambo. Ci sono degli ortaggi, dei frutti, non so, qualcosa che... Ah, vedi, quello c'è il gambo. È vero? Si sta facendo un'idea, Fede? Sì. Sì, lei da? Fe e da, è vero? Davide e Federico. Allora, terza informazione. Conserva. Quindi questo possiamo dire che è un ortaggio che contiene ferro, che ha il gambo e che forse si può... Da salve arriva un aaaah, e quindi ortaggio che contiene ferro, ha il gambo, può essere anche conservato, confabulano le ragazze di salve, fanno bene, anche da sternati arrivano suggerimenti. Quarta parola chiave che un po' svela il mistero, viola, questo ortaggio è violaceo. Ultima informazione, e qua si capisce, cinarina, produce questo ortaggio, produce la cinarina, che dire che fa bene è poco, e quindi anche a casa avrete potuto tentare questo indovinello, perché in sovrimpressione ci sono adesso queste parole chiave. Avete voi la risposta esatta? Sentiamo prima salve? Arrivederci alla prossima, tante cose. Carciofo! Il carciofo, il carciofo! Senta Federico, mai fidarsi delle donne, mai fidarsi delle donne. Tra l'altro però, voi mi dovete spiegare dove lo vedete, il gambo nella melanzana, perché con tutta la buona volontà sarà vero il colore violaceo, avete ragione, però il gambo è proprio del carciofo, il carciofo è proprio il principe degli ortaggi che viene messo sotto conserva, eccetera, eccetera, eccetera. Voglio dire qualcosa sul carciofo, un po' perché un po' mi ritrovo nel carciofo, e soprattutto perché è un ortaggio tipico della nostra zona, ed ha un altissimo valore nutritivo, con un apporto calorico invece veramente basso, ed un enorme contenuto di ferro. Inoltre il carciofo contiene sodio, potassio, calcio, fosforo e vitamine. La sua vera risorsa è la cinarina, che però, questo principio attivo, viene annullato dalla cottura, quindi il carciofo va mangiato crudo, dove possibile. I carciofi, lo dico anche a quelli un po' più grandi che ci seguono, serve a far abbassare il tasso di colesterolo e di trigliceridi nel sangue, migliorano la funzionalità epatica. I carciofi danno una mano all'intestino pigro e da studi certificati si è visto che la loro azione fortifica il cuore, quindi come vedete è davvero un tocca sana, consumate i carciofi perché fanno bene assai. Allora, ci siamo, lei non si preoccupi, perché questa risposta che ha dato sulla melanzana, poteva darla, nessuno si preoccupa più di tanto. Molto bene Davide, noi ci prendiamo una pausa e poi riprenderemo il nostro programma di oggi con le tavole delle cose buone, perché da salve esternatia davvero non si sono risparmiati e ci hanno portato tantissimi prodotti tipici ed eccellenza da mostrare a tutti quanti voi. Grazie. Grazie. Grazie.